Amici software libero e open source, benvenuti o bentornati in questa 115esima puntata del podcast di Marcosbox. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare le principali notizie dal mondo del software libero e open source delle ultime settimane. Apriamo questa puntata parlando di Dolphin, il file manager di KDE, che dopo tantissimo lavoro da parte degli sviluppatori, hanno impiegato ben 5 anni per implementare questa funzionalità, finalmente hanno aggiunto l'ultimo tassello mancante per aggiungere a Dolphin o anche a tutte le altre applicazioni di KDE che utilizzano la libreria KIO, la possibilità di creare, spostare, copiare, gestire, eliminare file in posizioni non di proprietà dell'utente. Questo si traduce in una cosa concreta che tantissime persone aspettavano, ovvero la possibilità in Dolphin di avere il supporto alle operazioni sui file di root, che è una funzionalità che chiedevano in tanti e fortunatamente adesso gli sviluppatori sono riusciti ad accontentare tutti quanti quegli utenti che chiedevano tale funzionalità, l'hanno fatta alla KDE maniera, quindi hanno predisposto tutto in modo che questa possa funzionare anche su altre applicazioni, quindi non riguarda questa modifica, non riguarda soltanto Dolphin ma riguarda anche tutte le altre applicazioni che fanno parte dell'ecosistema di KDE e quando vedremo questa funzionalità, bene, la vedremo fra qualche settimana con il rilascio di KDE Framework 5.90. Che dire, sono contentissimo che l'abbiamo finalmente aggiunta, ed era uno dei motivi per cui molti utenti si lamentavano di KDE, si lamentavano di Dolphin ed era stata anche criticata nel video di Venus Tech Tips. Luca è tornato con un articolo su Marcosbox, questa volta con una recensione su Elementor OS 6.1, l'ultima release di Elementor OS. Anche in questo caso, in questa recensione, ha analizzato vari aspetti, dal dolore dell'installazione al primo avvio, all'analisi del software preinstallato, all'app center in questo caso, quindi l'analisi della gestione e dell'installazione dei software su Elementor OS, e ha tratto alcune conclusioni che potete leggere a fine articolo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, io concordo pienamente con il suo giudizio, perché Elementor OS è quella distribuzione che alla fine è bella ma lo balla, come si dice a Foggia. Abbiamo parlato di Elementor OS, come non parlare dell'altra grande e famosa derivata di Ubuntu. Anzi, forse la derivata di Ubuntu più famosa in circolazione, ovvero di Linux Mint. C'è stato il rilascio, lo scorso 6 di gennaio, della versione stabile di Linux Mint 20.3. Che dire di Linux Mint 20.3? Ve ne avevo già parlato, per sommi capi, nella scorsa puntata del podcast, nelle scorse settimane, in occasione del rilascio della versione beta. Linux Mint 20.3 si conferma l'ennesimo ottimo rilascio di Linux Mint. Linux Mint è quella distribuzione che io oramai da tempo consiglio a tutti quanti gli utenti a riprimerarmi che vogliono affacciarsi al mondo del software libero open source, perché offre una base solida, basata sulle LTS di casa Canonical, e offre una serie di chicche, lato utility, lato software preinstallato, anche applicazioni sviluppate. pensate per Linux Mint, perché, come sapete, il team di Linux Mint sviluppa delle applicazioni desktop agnostiche, che però si integrano alla perfezione con i tre rilasci di Linux Mint, con i tre desktop environment di Linux Mint, e offre un desktop environment cinnamon che è in linea con quanto abbiamo graficamente sui sistemi operativi proprietari, perché è un desktop environment con un layout alla Windows, quindi non c'è nulla di strano, non ci sono barre messe nei punti sbagliati, non ci sono gestioni strane degli spazi di lavoro, e un ambiente confortevole. In questa nuova versione di Linux Mint troviamo un aggiornamento del Player IPTV Hypnotics, che ricordo può essere installato anche su altre distribuzioni, che adesso ha un aspetto migliore, grazie al supporto della modalità scura, ed è anche un nuovo set di bandierine che ci aiuta meglio ad identificare le nazioni. Sono state aggiunte alcune funzionalità, funzionalità di ricerca per trovare facilmente canali tv, film, serie tv. E' stata poi aggiunta una nuova X-Apps chiamata Tinky, che è praticamente un gestore di documenti, che ci dà rapido accesso ai nostri documenti preferiti e aperti di recente, e tiene traccia dei nostri progressi di lettura. L'applicazione di Sticknotes poi ha ricevuto una funzionalità di ricerca, che può affiappicere a chi è fissato con queste applicazioni, con queste note adesive sul desktop. Ovviamente ci sono dei lavori che sono stati compiuti a tema Mint Y, che donano alla distribuzione un aspetto migliore, più gradevole, più piacevole. Non hanno lavorato sul tema di Icone, non hanno lavorato sul tema di Synamon, però già questo è un primo passo. E' stata aggiunta poi il supporto alla modalità oscura per Celluloid, Hypnotics, X-Viewer, Pix e Gnome Terminal. Synamon 5.2 vede poi l'arrivo del supporto agli eventi all'interno dell'applicat calendario. Ci sono poi altri miglioramenti, quei là, miglioramenti nel file manager Nemo, miglioramenti nell'applirt audio, miglioramenti per l'accessibilità. Insomma, ci sono tanti piccoli miglioramenti all'interno di Linux Mint che rendono la distro più completa, più solida e più stabile e la fanno apprezzare a tutti quegli utenti alle prime armi, ma non solo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo nuovo rilascio. Restiamo a parlare di Linux Mint con una notizia che definirei grandiosa, che infatti io quando l'ho detto all'inizio ho detto finalmente, finalmente si sono decisi. Sono sicuro che moltissimi utenti all'ascolto, moltissimi anche utenti di Linux Mint una volta letta questa notizia mi hanno esclamato la stessa cosa. Però visto che alcuni colleghi, colleghi blogger stranieri non hanno presa tanto bene questa notizia e addirittura hanno ditato di Linux Mint di essersi piegata al vir denaro e vabbè cose senza senso a mio avviso. Di che cosa sto parlando? Sto parlando della partnership che Linux Mint ha firmato con Mozilla. Come ben saprete in passato Linux Mint utilizzava una serie di proprie impostazioni predefinite e configurava Firefox in un modo specifico. Andava a modificare la pagina principale, andava a modificare i motori di ricerca predefiniti. Tant'è vero che uno dei primi passi della guida post-installazione che pubblicavo su Marcosbox riguardante Linux Mint era proprio quella di andare ad aggiungere nuovamente Google Chrome, scusate, Google tra i motori di ricerca predefiniti di Firefox su Linux Mint. E vi spiegavo anche alcune altre cose tipo eliminare in maniera definitiva la home page, la home page personalizzata, perché nelle prime versioni non era nemmeno possibile farlo agevolmente, bisognava fare alcuni piccoli passaggi aggiuntivi. Che cosa è successo? Dicevo, hanno finalmente esegato una partnership con Mozilla. In che cosa consiste? Firefox continuerà a essere il browser predefinito di Linux Mint, verrà distribuito sotto forma di pacchetto DEB, così come accade attualmente, quindi non formato SNAP come casa canonica. Ovviamente sarebbe stato impossibile su Linux Mint, perché come saprete Linux Mint ha deciso di dire no agli SNAP. La configurazione e il modo in cui sarà costruito il pacchetto di Firefox renderà la versione di Firefox di Linux Mint quasi identica alla versione distribuita da Mozilla. Quindi potremmo finalmente avere una versione pura, semplice e chi più ne ha più ne metta di Firefox su Linux Mint. Le modifiche, come vi dicevo, sono principalmente quattro. La pagina iniziale predefinita non punterà più sul sito di Linux Mint, ma sarà quella predefinita, quella vaniglia di Firefox. I motori di ricerca predefiniti non includeranno più i partner di ricerca di Linux Mint, che erano Yahoo e DuckDuckGo, ma includeranno i partner di ricerca di Mozilla, quindi Google, Amazon, Big, DuckDuckGo e eBay. La configurazione predefinita passa dalle impostazioni predefinite di Linux Mint dalle impostazioni predefinite di Mozilla e Firefox non include più modifiche al codice o patch proveniti da Linux Mint, Mint, Debian o Ubuntu. Quindi è di fatto come se andiamo a scaricare il pacchetto di Firefox dal sito di Mozilla e lo andiamo a eseguire. Per Mozilla l'obiettivo è quello di far funzionare Firefox allo stesso modo su tutte le piattaforme in modo da facilitare la manutenzione e semplificare lo sviluppo, la correzione di bug e quant'altro. Per Linux Mint questo cambiamento significa anche un'enorme semplificazione in termini di manutenzione e sviluppo perché gli sviluppatori di Mint erano soliti creare Firefox da soli andando a prendere il pacchetto di Ubuntu applicando poi tutte le modifiche che dicevamo prima e adesso invece utilizzeranno il codice puro di Firefox e lo andranno a pacchettizzare per Linux Mint. Ovviamente questa è una partnership sia tecnica ma anche commerciale perché ci sarà un ritorno economico per quanto riguarda Mint perché adesso il motore di ricerca predefinito è cambiato quindi c'è una gestione degli introiti se la vedono Google, ma non ce ne può fare di meno ma siamo franchi. Se volete cambiare il motore di ricerca predefinito perché vi sta antipatico Google e volete utilizzare DuckGo potete continuare a farlo potete cambiare le impostazioni del nuovo Firefox su Linux Mint se volete andare a disabilitare quella telemetria di base che c'è su Firefox potete farlo basterà andare a modificare nelle impostazioni di Firefox quindi per noi utenti non cambia nulla se non il fatto di avere aggiornamenti più rapidi di avere un'esperienza più pulita di effettuare meno passaggi post-installazione perché sfido chiunque a non aver modificato le impostazioni predefinite di Firefox su Linux Mint e c'è anche una notizia molto carina che è un effetto collaterale conseguente alla partnership ovvero che una delle richieste di Mozilla potete cambiare anche il fatto di mantenere l'icona di Firefox quella ufficiale di Firefox e quindi adesso su Linux Mint Firefox avrà l'icona sua non avrà più quello proprio dell'icona personalizzata del tema Mint Y io spero che quanto prima gli sviluppatori di Linux Mint decidano di far piazza pulita di tutte le icone delle applicazioni di terza parte e di mantenere le icone delle applicazioni predefinite speriamo che lo facciano a breve comunque voi che cosa ne pensate di questo cambiamento all'interno di Linux Mint? per me è un'ottima notizia non ci piove non c'è nulla da obiettare anzi finalmente finalmente si sono decisi concludiamo questa puntata del podcast di Marcosbox continuando a parlare di Mozilla ma non dal punto di vista del software bensì delle scelte etiche tra virgolette perché parlo così lo capirete fra poco che cosa è successo? questo Mozilla tramite twitter ha pubblicato qualche settimana fa un tweet innocente per la maggior parte degli utenti la fondazione Mozilla ha annunciato di accettare pagamenti in criptovaluta dogecoin, bitcoin ed ethereum tramite bitpay per i servizi e le donazioni di Mozilla quindi un messaggio innocente per la maggior parte degli utenti però che ha fatto infuriare tutta quanta quella fanbase di utenti più attenti alle tematiche sociali, economiche e quant'altro che si sono scagliati contro Mozilla e che hanno iniziato a criticare questa scelta sapete benissimo le criptovalute è uno degli argomenti più discursi degli ultimi anni tantissimi si rischiano di poter diventare milionari con le criptovalute dicono che sono bellissime che tutte le tecnologie connesse si possono applicare a tantissimi campi sarà la svolta, sarà il futuro e chi più ne ha più ne mette però ci sono tanti risvolti negativi sapete bene che l'utilizzo di criptovalute fa consumare il mining di criptovalute fa consumare tantissime risorse energetiche è stato calcolato che il consumo mondiale delle criptovalute il consumo elettrico equivale al consumo annuale di un intero stato praticamente della Polonia quindi nel mondo si mina così tanto da consumare quanto consuma la Polonia in un anno quindi è una vera nazione ecco diciamo così i consumi di una nazione sono paragonabili ai consumi dell'estrazione di criptovalute al mining e ci sono problemi geopolitici la Cina come ben saprete ha iniziato a vietarli ci sono rivolte che sono state fatte in alcuni paesi dove sarà spostata la produzione di criptovalute nell'est Europa l'avete visto in questi giorni ci sono problematiche ambientali perché appunto c'è un consumo di energia non indifferente tutte tematiche che si affiancano poi a problemi legati alla speculazione che c'è attorno alle criptovalute sapete bene che le criptovalute sono anche in forma di pagamento più amati da quegli utenti che sviluppano malware nella fattispecie sviluppano ransomware quindi è un problema che va affrontato quello delle criptovalute sia dal punto di vista pratico ma anche dal punto di vista etico e nella fattispecie dopo questa decisione da parte di Mozilla dopo questo annuncio da parte di Mozilla dicevo la comunità si è scagliata contro e si è scagliato contro anche Jamie Zawinski Jamie Zawinski è un programmatore famoso per essere uno degli sviluppatori originali di Netscape nonché uno dei fondatori del progetto Mozilla che ha utilizzato parole molto colorite nei confronti di Mozilla per questa sua decisione ha paragonato anche anche le criptovalute allo schema Ponzi andatevi a leggere su Wikipedia che cosa è lo schema Ponzi quindi ha utilizzato parole colorite ha attaccato apertamente ha guidato la rivolta diciamo così nei confronti di Mozilla e la Mozilla Foundation ha deciso di fare marcia indietro e di ascoltare la comunità e ha deciso di sospendere momentanime delle donazioni in criptovalute inoltre Mozilla ha deciso di aprire una discussione interna a volte a discutere sulla possibilità o meno di accettare nuovamente in futuro donazioni in criptovalute e è anche una discussione che verrà fatta su come questa scelta potrà andare a impattare sugli obiettivi climatici che la fondazione si è posta quindi hanno visto che il problema c'è hanno visto che la fanbase che l'utenza ha sollevato il problema ed è contraria molti utenti sono contrari a questa cosa e hanno deciso nel pieno spirito dei compensorsi di discutere di rendere tutto questo processo trasparente di tornare sui passi e di vedere di rimettere in discussione tutto molto probabilmente passato questo momento iniziale passato questo polverone iniziale di sicuro Mozilla cercherà di trovare la quadra e di accettare nuovamente pagamenti in bitcoin perché come si dice pecunia non ho get e vabbè vedremo vedremo come si evolverà la situazione notizia poi che non ho passato su marcosbox ma il creatore di dogecoin ha avuto molto a che ridire su questa scelta di Mozilla di sospendere donazioni di criptovaluta e anche lui su twitter in maniera colorita ha attaccato la fondazione in questo caso per il motivo opposto quindi è difficile schierarsi in queste guerre perché si suscita l'ira da una parte dall'altra sia dei trattori che delle persone a favore io personalmente sono contro questo abuso di criptovalute voi che cosa ne pensate? spero di non avervi annoiato troppo con questa ultima spezzone dedicato alle criptovalute non è il mio argomento lo so non tratto di criptovalute molti di voi utenti di sicuro mi rimpovereranno per tante cose dette all'interno di quell'ospensione non capisci un cacchio di criptovalute che pari a fare e c'avevi ragione che ne capisco tanto mi sto appassionando negli ultimi diciamo negli ultimi 3-4 mesi a questo argomento sto approfondendo un po' con alcuni canali youtube sto approfondendo le varie tematiche connesse alle criptovalute legate al consumo energetico e quant'altro quindi sto cercando di capirci meglio anche io a riguardo beh che dire comunque con questa ultima notizia si conclude qui questa 115 puntata del podcast di marcosbox la prima puntata di questo 2022 come sempre vi ricordo di seguirmi sui canali social su facebook su twitter su linkedin su telegram soprattutto dove sono attivi tre canali c'è il canale principale di marcosbox dove posto le notizie c'è la community telegram di marcosbox e c'è anche il canale dell'offerta nel caso vogliate supportare i blog acquistando prodotti da amazon sapete bene come funziona la cosa voi acquistate il vostro prodotto su amazon non lo pagate di più però amazon se acquistate mediante il mio codice refera che trovate anche su marcosbox c'è il bannerino sul sito acquistando appunto dei prodotti su amazon amazon mi riconoscerà una piccola percentuale che poi verrà reinvestita dal sottoscritto per potenziare un po' l'attrezzatura e quant'altro e sostenere anche il blog e via lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo sperando che vada tutto per il verso giusto la prossima settimana con il podcast di marcosbox e ciao ciao